Buongiorno, benvenuti alla presentazione della versione 6 di Leicester 4D. Vorremmo iniziare questa presentazione con l'introduzione dell'idea che sta alla base di Leicester 4D, il nostro programma di progettazione illuminotecnica e in genere di gestione del prodotto luce a 360 gradi. Leicester 4D vuole essere un sistema di strumenti software e hardware per rendere più agevole il lavoro di tutti gli operatori del settore luce, cioè creare degli strumenti affinché tutti gli operatori possano lavorare in un modo più semplice scambiandosi i dati fra di loro. Tutto ciò oggi deve essere posto in relazione anche alla rivoluzione che sta avvenendo nel mondo della progettazione, vale a dire l'introduzione del BIM, il quale introduce un nuovo modo di progettare fra produttori, progettisti, rivenditori e installatori, che soprattutto, caratteristica fondamentale, possono scambiarsi informazioni in modo interoperabile. Ma che cosa vuol dire in modo interoperabile? Tutto ciò è descritto in modo inequivocabile all'articolo 4 del decreto del MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 12 gennaio del 2017, il cosiddetto decreto del Rio, che stabilisce le date per l'entrata in vigore del BIM, a livello di pubblica amministrazione, a partire da quest'anno, quindi a partire dal 2019, con progetti al di sopra di 100 milioni di euro di investimento, fino ad arrivare al 2025, quando tutti i progetti realizzati dalla pubblica amministrazione al di sotto del milione di euro, dovranno essere realizzati con questa nuova forma di progettazione, che è il BIM. Come dicevo, l'articolo 4 del decreto parla di interoperabilità e dice chiaramente che le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. Quindi scardino un po' le abitudini che nel mondo dell'illuminazione abbiamo avuto e continuiamo a avere fino ad oggi, vuol dire che fondamentalmente alla pubblica amministrazione dovranno essere forniti dei file, i quali dovranno andarsi ad integrare all'interno di piattaforme interoperabili in modo trasparente, quindi senza vincoli. Tutto ciò poi è anche riepilogato molto bene nell'ultimo punto dell'articolo 4, dove le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento sono fruibili senza che ciò comporti l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche, commerciali, individuali, specifiche. Quindi vuol dire che devono esserci degli organismi sovranazionali a cui partecipano i diversi attori che sviluppano questo sistema BIM nella direzione della interoperabilità. Per quanto ci riguarda, noi non abbiamo ancora fatto un passo definitivo in direzione del BIM, nel senso che non abbiamo ancora scelto un formato, anche perché c'è una situazione molto in divenire. Siamo comunque attenti e inizieremo quest'anno a lavorare in quella direzione. Va detto comunque che ci siamo preparati le basi per poter entrare anche nel mondo BIM con relativa facilità. Veniamo più specificamente alle novità della nuova versione. Abbiamo voluto dare al programma un tocco grafico diverso, ridisegnando tutti i loghi, ridisegnando tutte le icone, dei diversi moduli che costituiscono la suite di Lightstar 4D, alla quale abbiamo aggiunto, perché adesso entra a far parte del pacchetto, anche GN, cioè GONWIN, che è il programma che gestisce tutti i nostri goniofotometri. Qualsiasi tipo di nostro goniofotometro è gestito da un unico programma che si chiama GONWIN, che è in relazione con PhotoView, che è il modulo di gestione delle fotometrie, che vedete qui, PV, e poi in relazione con tutti gli altri moduli, vale a dire LD, l'ISDAT per la gestione dei dati di catalogo, LC, la parte di progettazione illuminotecnica, LW, il browser del database gestito con l'ISDAT, e WG, il browser di LISWIN, che gestisce il database in locale, trasportato su internet, come vedete qui, WG. Allo stesso tempo, quindi, abbiamo provveduto anche a modificare l'immagine di Lightstar 4D, del logo di ingresso del nostro programma. Veniamo alle novità di PhotoView. Come penso sappiate, sono stati introdotti due nuovi formati file, uno da parte dell'Uni e uno da parte dell'IS americana. Sono formati file su base XML e soprattutto sono due formati file esattamente identici, o quasi esattamente identici. Praticamente, l'Uni 11.733, introdotto da l'Uni il 31 gennaio scorso, è stato realizzato in stretta collaborazione con gli americani dell'IS, che hanno, nel mese di novembre e dicembre, introdotto il formato TM33. Quali sono le caratteristiche di questi file? Fondamentalmente, dalla collaborazione, è nato un documento unico, che è gestito a livello di due enti normativi, però, all'interno, le cinque sezioni principali sono esattamente identiche. Quindi, qualsiasi modifica che verrà fatta o verrà pensata dall'Uni, dovrà essere, allo stesso tempo, approvata dall'IS, affinché questi file possano mantenere la propria congruenza. Va detto anche che è stato già trasferito questo file alle CIE, che ha aperto una commissione che nei prossimi mesi inizierà a lavorare per l'evoluzione del file, perché va detto che durante il cammino, ad esempio, la nostra esperienza particolare di sviluppo del file UnixML e del file IS TM33 all'interno del nostro applicativo, abbiamo incontrato delle incongruenze che sono già state messe in lista e poste all'attenzione delle CIE quando inizieranno il proprio lavoro di sviluppo della fase 2 di questo file. Esiste però una differenza tra il file Unix e il file IS. Fondamentalmente, si è concordato con gli americani di poter inserire da parte dei singoli stati, da parte dei singoli enti, degli elementi personalizzati, quelli che si chiamano proprio custom. Vale a dire che nel file Uni è stata inserita la sesta sezione che si chiama Italian CAM, all'interno della quale sono stati riportati tutti i dati richiesti dai CAM, cioè dai criteri ambientali minimi per la pubblica amministrazione, che è legge dello Stato da un anno a questa parte e quindi il file UnixML sarà il file che potrà essere, anzi che dovrà essere essendo legge, fornito dai produttori alla pubblica amministrazione all'interno del quale compariranno la parte fotometrica, la parte spettrometrica, quindi la parte di colore e la parte di scheda tecnica. Per quanto ci riguarda, quindi, abbiamo inserito a livello di PhotoView le funzioni di conversione dei file, ad esempio Eulondate AIS oppure anche dei file OXL, in questi due nuovi formati. Quindi, convertire un file LDT, convertire un file AIS, vuol dire trasferire da un formato all'altro, però solo la parte fotometrica. Mentre PhotoView gestisce già da tempo tutta la parte spettrometrica che può essere esportata a livello di file, di questi nuovi formati. Va detto che questi nuovi formati hanno creato senza dubbio e creano un po' di sconcerto, soprattutto negli Stati Uniti, perché per la prima volta all'interno di un documento americano compare evidente il fatto che non si possa più utilizzare il sistema imperiale. Vuol dire che anche gli americani con questo nuovo formato passano, almeno per quanto riguarda il settore luminotecnico, all'utilizzo del sistema metrico internazionale. Un ulteriore elemento che è stato inserito e che è previsto da una delle sezioni di questi nuovi formati è la sezione degli strumenti che noi abbiamo integrato all'interno di PhotoView con questo bottone che si chiama strumenti che apre una finestra in cui poter inserire tutti i dati degli strumenti. Va detto che sono dati ancora in forma molto limitata e andrà senza dubbio nei prossimi mesi integrata questa sezione con altre informazioni relative agli strumenti di modo tale da poter avere un pacchetto poi completo per una miglior gestione, una gestione a questo punto completamente integrata. Comunque, sia in importazione che in esportazione i file UNIXML, come in gergo abbiamo iniziato a chiamarli e i file IS e TM33 possono essere gestiti esattamente come voi avete gestito fino ad oggi i file IS, i file LDT oppure i file OXL. Un'altra parte del nostro lavoro di questo quasi anno e tre mesi dall'uscita dell'ultima versione 5 di Lightstar 4D è stata dedicata proprio allo sviluppo della sezione dello spettro quindi alla gestione del colore dove abbiamo inserito altri piani colore quindi a parte il piano XY che era già disponibile nella versione 5 sono stati introdotti i piani UV e i piani U'V' che vedete in immagine qui a destra. Dopodiché abbiamo inserito una parte grafica relativa allo sviluppo grafico del CRI con l'istogramma qui alla sinistra e con il diagramma radar sempre per il CRI e inoltre è stata inserita la sezione dell'LCD McAdam che in questa fase possono essere gestite per i file che derivano dai nostri coni fotometri i nostri coni fotometri permettono di rilevare non solo uno spettro in relativo all'apparecchio come ad esempio se noi ponessimo l'apparecchio all'interno di una sfera ma di rilevare gli spettri in diverse posizioni questo che cosa vuol dire? vuol dire dare una caratterizzazione molto più completa della distribuzione di colore da parte dell'apparecchio e soprattutto poter arrivare alla fine del parametro del parametro previsto sia dalla normativa americana LM79 che dalla normativa europea EN 13032-4 dedicate tutte e due al mondo dei LED per poter arrivare alla determinazione del parametro delta U'V' vale a dire la definizione della massima distanza tra due punti colore tra due coordinate colore questo è un elemento che ci permette di dire di definire la qualità del nostro apparecchio dal punto di vista del colore è molto utile ad esempio quando noi volessimo verificare se ponendo ad esempio una barra LED nelle vicinanze di una parete questa parete è illuminata con tutta luce bianca oppure se ad esempio è illuminata con la prima fascia la prima fascia gialla che è uno dei difetti che caratterizzano a volte gli apparecchi di illuminazione allora come già accennato gli spettri che noi possiamo importare possono essere oggi con la versione 6 salvati all'interno del file OXL cosa diversa rispetto a prima perché prima permetteva il programma di salvare solamente uno spettro adesso invece possiamo salvare il pacchetto di spettri rilevati agonio fotometro quindi con un agonio spettrometria e allo stesso modo poter salvare gli spettri all'interno del file UNIXML o del file ISTM33 va detto subito che l'introduzione e l'implementazione di tutti i parametri previsti dai numerosi parametri previsti dalla nuova normativa sui file di interscambio non è completata perché ad esempio non sono ancora stati presi in considerazione tutti i parametri relativi al mondo ortofrutticolo oppure tutta una serie di altri parametri che possono essere salvati all'interno del file IS che soddisfano altri mondi molto probabilmente saranno implementati a partire dalla seconda metà di quest'anno veniamo invece alle novità relative alla parte di progettazione cioè a light calc dove abbiamo dedicato veramente molto molto tempo innanzitutto per il potenziamento dei calcoli e del rendering abbiamo preso la procedura di calcolo abbiamo visto le mancanze che aveva questa procedura e abbiamo potenziato enormemente sia i calcoli che il rendering tutto ciò è ritornato utile anche per una serie di calcoli che vedremo fra poco inoltre poi abbiamo modificato la gestione delle immagini con i file OXL in precedenza quando attraverso PhotoView veniva realizzata una fotometria OXL all'interno della quale salvava anche l'immagine del prodotto capitava che una volta portata in like l'immagine scomparisse quindi è stata completata questa parte adesso tramite il file OXL io posso quindi trasferire al mio cliente se da produttore trasferisco al mio cliente posso trasferire un file che non è un file cieco come siamo stati abituati fino ad oggi perché quando noi parliamo di file LDT noi per dal 1990 fino ad oggi abbiamo gestito dei file che sono completamente ciechi quindi che portavano poi il cliente a dover immaginare quale fosse il prodotto da utilizzare invece adesso con il file OXL io trasferisco un file all'interno del quale c'è l'immagine all'interno del quale c'è la fotometria all'interno del quale ci possono essere anche tutte le informazioni di spettro la parte di fotometria e la parte di immagine sono gestite direttamente all'interno di LightCalc inoltre poi il programma permette di gestire esattamente come i file LDT i file IS piuttosto che i file OXL i nuovi file un XML ISTM33 semplicemente come si faceva prima tramite un drag and drop posso continuare a fare il drag and drop anche con questi nuovi formati un'altra modifica a dire il vero è stata una piccola modifica ma che apre un universo mondo è il fatto di aver reso editabile il campo potenza nella modifica dei dati degli apparecchi questo che cosa vuol dire? vuol dire che noi attualmente vivendo nel mondo dei LED sappiamo benissimo che i LED possono essere regolati in corrente quindi regolati come dire in potenza a questo punto comporta che una regolazione mi porta a un flusso diverso infatti il programma permette di modificare potenza e flusso di modo tale che siano coerenti poi dopo quando si va a stampare ciò apre la strada a una modifica fondamentale che andremo a realizzare quest'anno vale a dire la possibilità che all'interno di un singolo file siano riportate le caratteristiche di corrente quindi di potenza e di flusso in funzione delle correnti tipiche degli apparecchi rilevati a gognofotometro oppure rilevati in laboratorio che cosa vuol dire? vuol dire che io posso partire da un rilievo completo ad esempio realizzato a 500 milliampere dopodiché vado a misurare una posizione fissa in genere a gamma 0 lo stesso punto però misurato con una corrente diversa ad esempio 350 milliampere oppure 700 milliampere oppure 900 milliampere di modo tale da poter definire una serie di valori che mi diano una curva tale per cui quando io dovesse inserire all'interno del programma una corrente diversa perché è quella corrente che mi permette di superare il limite previsto dalla gara quindi ad esempio non avere una corrente di 350 milliampere ma può essere che si renda necessario avere una corrente di 366 milliampere per arrivare al limite io automaticamente avrò che il programma mi ritorna indietro il relativo il relativo flusso quindi questa sarà una modifica legata all' all'estrapolazione dei dati fotometrici di modo tale da poter favorire e semplificare tutto il processo perché provate a immaginare se queste informazioni sono all'interno dello stesso file vuol dire che io non devo andare a gestire 4, 5, 6 diversi file per diverse correnti un'altra modifica che abbiamo introdotto di recente è l'esportazione dei progetti in DXF3D con risultati e curve isolux che cosa vuol dire? vuol dire che come vedete in questa immagine io posso importare un DXF su questo DXF realizzo il mio ambiente realizzo i miei calcoli seleziono le superfici di interesse a questo punto le visualizzo in termini di risultati in termini di curve isolux esporto in DXF3D e automaticamente il programma mi trasferisce sulle superfici selezionate i risultati le curve isolux oltre che il 3D wireframe del mio ambiente e ovviamente anche il DXF di fondo veniamo all'ultima funzionalità che abbiamo introdotto a dire il vero quella che ci ha portato via molto tempo abbiamo dedicato molto tempo alla realizzazione del calcolo automatico e al processo di ottimizzazione per le strade che cosa vuol dire? descriviamolo un pochettino più in dettaglio con la diapositiva che segue allora fondamentalmente noi abbiamo pensato di non inventare l'acqua calda vale a dire abbiamo degli stupendi strumenti come i file Excel all'interno del quale noi possiamo andare a inserire le caratteristiche delle strade e degli apparecchi quindi io inserisco le caratteristiche della strada del marciapiedi delle zone di parcheggio definisco le dimensioni definisco l'apparecchio o gli apparecchi ecco questa è una cosa importante perché io posso con il programma andare a definire un apparecchio oppure una serie di apparecchi oppure non definire niente e avendo in precedenza definito qual è la cartella all'interno della quale sono poste le fotometrie andare a dire al programma prendi tutte le fotometrie che sono contenute all'interno di quella cartella quindi senza stare lì a perdere tempo a inserire i riferimenti dei file io dico al programma prendi tutti quei prodotti lì prendi tutti quei file i file possono essere di qualsiasi formato possono essere dei file o xl dei file ldt a is un xml qualsiasi formato il programma li digerisce tutti un altro degli elementi che abbiamo inserito nella fase di definizione delle caratteristiche geometriche dell'installazione quindi ad esempio l'interdistanza tra i pali oppure l'altezza dei pali oppure l'inclinazione abbiamo inserito dei campi multipli che cosa vuol dire vuol dire che io posso dire al programma fammi il calcolo con l'altezza di installazione tra 8 e 12 cancelletto 1 vuol dire compasso 1 quindi il programma automaticamente andrà a considerare il caso 8 metri 9 metri 10 metri 11 metri 12 metri quindi 5 casi questo che cosa vuol dire vuol dire che automaticamente il programma esploderà i diversi casi e farà un calcolo per ogni per ogni caso certo che se noi abbiamo 5 casi per l'altezza e poi ne definiamo 3 per l'interdistanza e 2 per l'inclinazione quindi vorrà dire che avremo 5 per 3 per 2 come numero totale di soluzioni moltiplicate poi per il numero totale di fotometrie che magari io ho preso in considerazione quindi una volta definito il file excel si lancia il calcolo automatico dal modulo strade avanzate di LiStar 4D selezionando il file excel di input a questo punto il programma inizia a lavorare e a riempire il file excel che è un file excel derivato dal file excel di input vedete qui che il file excel di input è caratterizzato da questa banda nera che rappresenta la separazione tra i dati di input e i dati di output che cosa vuol dire che il file excel di input viene copiato in file excel di output di modo tale da poter esplodere i vari casi come primo passo dopodiché il programma inizia a calcolare uno per uno e a riportare tutti i valori all'interno della sezione di output che trovate qui va detto subito che non ci siamo limitati e questo deriva dalle richieste che ci hanno fatto non ci siamo limitati solo a riempire il file di output semplicemente con i valori dei calcoli abbiamo introdotto anche ulteriori calcoli su specifiche richieste ma soprattutto poi è stata anche introdotta una sezione che è l'ultima all'interno della quale vengono riportati i parametri fotometrici relativi all'apparecchio utilizzato vale a dire ad esempio poter riportare il valore ipa asterisco piuttosto che il G asterisco delle 13201 piuttosto che il D sempre delle 13201 piuttosto che quei parametri che sono previsti come il DFF piuttosto che il BL e il BH che sono i due parametri derivati dalle TM15 americane della IS TM15 per valutare la distribuzione del fascio tutto questo all'interno di un unico file Excel che vediamo in modo un pochettino più esteso qui la cosa interessante è che con quanto vi dicevo al primo punto dell'introduzione di LightCalc la modifica che abbiamo fatto sui calcoli ci ha permesso di arrivare a una velocità di 25 progetti al minuto vale a dire che in pochi minuti io sono in grado di sviluppare quantità enormi di soluzioni che possono poi dopo proprio perché vengono sfruttate le funzioni di Excel essere utili per ricercare la soluzione più interessante ad esempio quindi se io applicassi i filtri sui vari campi io potrei andare a fare una ricerca per IP asterisco piuttosto che IP vedere la soluzione migliore dal punto di vista dell'IP piuttosto che vedere quali sono gli apparecchi che hanno il giesterisco migliore e così via cioè diventa effettivamente uno strumento molto molto elastico voglio a questo punto ringraziare le società e gli studi di progettazione che hanno dato una mano enorme allo sviluppo di questo modulo che vedete riportate qui sotto sono società che hanno fornito a noi suggerimenti indicazioni hanno partecipato anche alla messa a punto quindi un grande grazie da parte nostra ma quali sono i vantaggi di questo calcolo automatico che vi ho introdotto poc'anzi senza dubbio la flessibilità perché io posso organizzare il mio lavoro a seconda delle diverse esigenze ad esempio se io volessi vedere qual è la soluzione migliore fra un novero di x apparecchi posso impostare un semplice progetto e far fare il calcolo solamente su quel progetto oppure se volessi andare a determinare qual è la soluzione migliore quindi fare un'opera di ottimizzazione posso definire dei range ad esempio sull'altezza di installazione e vedere poi qual è la soluzione migliore non da meno come avete potuto vedere nella descrizione che vi ho fatto l'automatismo l'automatismo permette di evitare di passare ore se non giorni nell'elaborazione di progetti come è successo recentemente cito sempre il caso della città di Ro dove praticamente noi siamo che ha cambiato tutto l'impianto di illuminazione per un totale di 9000 apparecchi di illuminazione e sono stati effettuati un totale di circa 600 calcoli sviluppati nel giro di qualche settimana come potete vedere calcolando a una velocità di 25 progetti al minuto quei 600 progetti sono realizzati con il nuovo programma in veramente pochi minuti dopodiché la rapidità quello che vi ho accennato adesso progetti gestiti in pochi minuti e poi il salvataggio automatico dei progetti quindi non solo riempiamo il file excel con tutte le caratteristiche con tutti i parametri calcolati ma salviamo anche in automatico il progetto uno per ogni progetto questo c'è stato chiesto esplicitamente da parte di alcuni enti perché in questo modo diventa molto più facile tramite il file excel andare a individuare il progetto di interesse dove viene riportato anche il nome del file e quindi andare a prendere il file senza dover aprire un file unico all'interno del quale andare a ripescare il progetto di interesse quindi il file excel di output è un utile strumento di sintesi perché logicamente tutte le informazioni sono impacchettate in modo ordinato all'interno di un unico strumento provate a immaginare come può essere adesso adesso io devo gestire i vari progetti devo salvare i vari progetti magari mi stampo il file pdf per essere più veloce ma devo andare poi a consultare un file pdf dopo l'altro e non riesco ad avere una visione di insieme come invece si può ottenere adesso indicizzazione perché provate a immaginare io lavoro parto e sgrosso il problema ma alla fine lancio un processo di batching quindi questo processo automatico delle strade a questo punto sulla soluzione finale e questa soluzione finale mi diventa la soluzione di sintesi dove io ho indicizzati anche tutti i progetti corrispondenti quindi io posso archiviare il tutto e quando dovesse averne bisogno per qualsiasi motivo successivamente posso andare a prendere il file excel vedere qual è il progetto aprire il progetto e fare quello di cui posso avere bisogno quindi aiuta anche l'archiviazione dei progetti come vi dicevo abbiamo lavorato anche abbastanza pesantemente sul discorso del rendering e qui vi presentiamo alcuni alcuni risultati di progetti realizzati da parte di nostri clienti o anche come in questo caso da parte della nostra società sorella Selum spagnola ok veniamo all'iswin che come sapete è il programma di gestione dei dati di catalogo anzi il browser dei dati di catalogo all'interno del database sono stati integrati i parametri mancanti dell'italian cam vale a dire che una volta che in sede uni abbiamo definito i campi necessari per rispondere alle domande del ministero abbiamo fatto una verifica e visto che alcuni parametri erano già disponibili altri parametri non lo erano quindi abbiamo esteso il database introducendo anche questi parametri a questo punto quindi è possibile importare i file unixml oppure istm33 che arrivano da photoview quindi io posso aver gestito tutta la parte tecnica fotometrica e la parte di spettro semplicemente con un drag and drop lo porto qui all'interno del programma posso editare il prodotto aggiungere i parametri di scheda tecnica e da qui tramite questa funzione esporto un unixml a questo punto completo vale a dire completo di tutta la parte relativa all'italian cam allora come vi accennavo i file unixml sono strumento previsto dai cam del 27 settembre 2017 per la fornitura dei dati degli apparecchi di illuminazione alla pubblica amministrazione vale a dire il paragrafo 42314 del decreto del ministero dell'ambiente che è diventato legge più di un anno fa allora non ci siamo dedicati solamente all'introduzione di nuove funzioni a livello di live star 4d ma abbiamo voluto rendere il tutto anche più completo con un grande lavoro che abbiamo fatto fondamentalmente negli ultimi otto mesi sul nuovo sito di cui potete vedere qui alcune immagini di anteprima il nuovo sito è realizzato con nuova tecnologia molto più fruibile molto più carino rispetto al precedente che dopo tutto ha servito per gli ultimi oltre 15 anni quindi è stato uno strumento per noi fondamentale per fornire i nostri servizi e per fornire le informazioni al nostro mercato inoltre abbiamo voluto nell'ottica di creare degli strumenti automatizzati introdurre un nuovo server è un server web per la generazione automatica di file grafici fotometrici a partire da file OXL questo che cosa vuol dire vuol dire che abbiamo pensato a una cosa molto semplice che risolve un problema fondamentale evitare di caricare enormi quantità di file sui siti aziendali se voi andate ad analizzare i siti praticamente posso dire di quasi tutte le società tutte mettono a disposizione i file fotometrici chi mette a disposizione i file fotometrici impacchettati in file zip magari suddivisi per famiglia poi dall'altra parte mettono a volte i diagrammi polari a volte mettono a volte non mettono oltre file LDT ad esempio anche file IS diciamo che la situazione è assolutamente variegata allora noi che cosa abbiamo detto abbiamo detto sì ma quando io carico questi file magari vado a caricare anche migliaia di file e tutto questo comporta tempo quindi se io carico ad esempio 5.000 file per quanto riguarda i file fotometrici in formato LDT poi voglio mettere anche quelli in IS sono altri 5.000 poi metto i diagrammi polari sono altri 5.000 poi magari metto il diagramma dell'apertura del fascio sono altri x migliaia di file noi che cosa abbiamo pensato abbiamo pensato a un'evoluzione di photoview per il web quindi che cosa vuol dire come io con photoview sul mio desktop posso trascinare un file e convertirlo in diagramma polare apertura posto che convertirlo un LDT in IS e così via abbiamo pensato di fare quindi la stessa cosa su web dove andiamo a caricare un file OXL il file OXL sarà sempre il contenitore che contiene tutti gli altri compresi anche l'UNIXML e il TM33 e quindi io semplicemente a richiesta posso dire ho bisogno del file LDT e lui automaticamente in quel momento mi genera il file LDT e mi permette di scaricarlo come pure la visualizzazione del qui si vede è un po' in piccolo comunque vi dico io che sono diagrammi polari questi diagrammi polari sono generati run time in quel momento ma a questo punto qui avendo photoview la possibilità di gestire diversi grafici potete capire che per noi non è un grosso problema pensare di aggiungere tutta una serie di grafici che venirebbero quindi messi direttamente a disposizione del mercato senza comportare un aggravio di tempo e quindi di costi all'azienda allora photoview web è attualmente in funzione con i nostri web catalog ma la sua conformazione la sua configurabilità permette di poterlo mettere a disposizione anche delle aziende sia come server quindi vuol dire che ci viene fatta una richiesta noi ritorniamo indietro quello che serve che come quindi come server remoto che come server aziendale cioè mettiamo a disposizione dell'azienda lo strumento che l'azienda potrà configurare all'interno del proprio sito quest'ultima parte sarà il lavoro e quindi anche di comunicazione che faremo nei prossimi mesi un'ulteriore novità questo più dal punto di vista commerciale è l'introduzione della nuova licenza A che è una licenza di affitto a tempo limitato quindi che cosa vuol dire che io posso affittare il programma ad esempio per un mese sviluppare il mio progetto poi il programma si disattiva è comunque possibile riattivarlo in qualsiasi in qualsiasi momento vi ringrazio vi ringrazio a